E salve a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale Riprendiamo con una nuova puntata di Doom Dove eramo rimasti, dobbiamo distruggere I reattori che alimentano il campo di forza Per continuare la nostra avventura Vediamo quindi di proseguire Qui abbiamo appena distrutto l'ultimo nido di sangue Andiamo ad esplorare tutta l'area Per vedere di non aver lasciato indietro Nessun drop o niente di particolare Qui ci curiamo Che non fa mai male Colpi a manetta Perfetto, siamo pieni Una voce di registro Che adesso frattumiamo come il nostro solito Che cazzo sei? Aspetta che Boom Cos'era quella roba? Quanto pare abbiamo trovato di nuovi nemici Qui abbiamo un bel po' di roba Che potrebbe servirci Noi lei di chi ci stesse colpendo Mamma mia ragazzi Che casino C'è quella specie di roba la che ci lancia Delle bombe incredibili Oh L'abbiamo distrutto ragazzi Chi era quello là? Un evocatore Mamma mia che scontro Spero di averli uccisi tutti ragazzi Spero Di averli uccisi tutti Questo piccolo ha un fratto nascosto Fagli saltare tutti Ma morite Non ha neanche senso sprecare il colpo Oh armatura Manetta Ho una nuova arma Cosa abbiamo trovato? Mamma mia Una doppietta Una doppietta So già che Mi piacerà assai Non dovete farvi ingannare Fate così Oh bella la Cornicione Papalai Guardalo Papapapa Yeah ragazzi Vita siamo a posto Che è questa Che prima Non ho esplorato Vediamo Gli ha dei pugni in testa Ma A vedere la presenza demoniaca No Gli abbiamo uccisi tutti Oh yeah baby Armatura come non ci fossero domani E un altro token per la nostra armatura Perfettamente ragazzi Che ne abbiamo fatto benissimo Eh Pam Eh no Non va bene Non va bene Non va bene imbrogliare così eh Non va bene Non va bene Pam Dai venite Ti spacco come una bestia Ti spacco Mamma mia Guardate la doppietta Mamma mia La doppietta La doppietta è potentissima Ah merda C'è uno qui là Adesso l'ho visto Cazzo 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 Quindi la doppietta Si muove Blazing fast BAMBETE Ti spezzo le braccia Che è a te Che sei Il figlio degli altri Ah Volevate E invece Vi ho nati Tutti qua Oh cavolo Potete andare in modalità bersacke Un altro token Per la nostra armatura Modalità bersacke Incredibile Incredibile L'abbiamo preso L'abbiamo preso L'abbiamo preso Sono molto contento Di aver preso Questo Statuina Perfetto Oh guardate Abbiamo l'ultimo Coso da distruggere Cosa c'è qui Niente 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 Ok comunque Noi spacchiamo Che è l'ultimo coso Eeeh In quanto pare E mi dispiace Non lo so Volevo Ancora viva Rilevo i suoi segni vitali Nella torre Argent Ha rimosso uno degli accumulatori Dalla base Della torre Ha una traccia energetica Unica Che possiamo seguire Ci siamo allora Non c'è nient'altro Da fare Cosa vuoi farci Uccidi Oh Dovevo uccidere Olivia Pierce Andiamo avanti Dovevo fare la fine di prima Ok c'è una sfida Dietro c'è qualcosa No Che cazzo c'è Eccolo qui Madonna santa E tu che cazzo sei Ma voli anche Che cazzo sei Oh mamma mia Oh volevi Faccia di merda Tanto male Che andiamo giù A fare un po' il culo A questi no Oh no ragazzi Non mi va Di fare il culo Insieme Quello che mi preoccupa In realtà È questo qui Ve lo dico Sinceramente Dov'è il ciccio bello Grossissimo È ancora vivo Lo so Dove si è nascosto Dove si è nascosto Ah guardati No Ma che cazzo Dove sei Oh la Oh la Così impari Qui Completata nel 2127 Secondo il prototipo Sviluppato dal team Di ricerca di Sandro Aiden La torre Argent Anche nota come Induttore Argent È il coronamento Dei nostri sforzi Ok Colpi che non fanno mai male Dimmi che non c'è Sostra Trovo qualcosa dentro Ah sono questi Stivali a propulsione Di cui parlavi Possiamo arrivarci da qua Perché siamo Degli imbroglioni Eh La porta è chiusa Ma ce ne sbattiamo Prendiamo l'armatura Facciamo una sfida runica Vai Usa la doppietta Per eliminare 30 riluttanti Dentro la scala del tempo Vai Dobbiamo metterli in fila Ragazzi Dove cazzo Sono induttanti Dove cazzo siete Dove cazzo siete Dove cazzo siete Dove sono Mamma mia Di un pelo Di un secondo Ragazzi Di un secondo Di un secondo Sul lato Di un secondo Probabilmente Si passerà Da qui Esattamente Come volevasi Dimostrare E adesso Tocca alla vita Ragazzi Tocca alla vita Questa volta Fracchiate Tocca alla vita Nuovamente La vita Tocca ragazzi Vediamo di non Crepare Scendendo Cerchiamo sempre Di vedere Cosa c'è In giro Non mi sembra Niente Per ora Perfetto Ok ragazzi Io direi Che per questa puntata Possiamo salutarci qui Siamo diretti Lì in cima Dobbiamo uccidere Olivia La nostra Cerrima nemica Che sta cercando Di portare i demoni In questo mondo Quindi Se hai questa puntata Vi è piaciuta Lasciate un like Se il mio canale vi piace Iscrivetevi E alla prossima Ragazzi E alla prossima